Si è conclusa con la tavola rotonda su Banca del Territorio tra rischi e opportunità per le piccole e medie imprese la prima edizione di Giustizia e Crescita di Young Hope, la due giorni organizzata dalla scuola fino a prova contraria, che ha visto sul palco alternarsi ministri e leader politici da Boccia a Salvini, da De Luca a Orlando. A prendere parte alla discussione la presidente della Federazione delle Imprese, Evelyn Zubin, l'avvocato Fabio Daniello e il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, un intervento, quello del numero uno della Banca Partenopea, particolarmente sentito e applaudito dal pubblico, che ne ha apprezzato i passaggi nodali sul ruolo della BCE e su come si debba puntare forte sul mezzogiorno e sui giovani, poi un passaggio sulla difficile situazione dei lavoratori della Whirlpool. Secondo me è una lucida interpretazione del ministro Boccia, che ha dato speranza e fiducia ai nostri giovani, invitandoli a impegnarsi sempre più nella cultura, che è l'unico valore che nessuno ti può togliere, valore tangibile e che secondo me può essere l'unico spazio per poter fare in modo che i nostri cervelli non vadano fuori, che magari facciano esperienze in giro per il mondo, ma che poi tornino qui ad arricchire il nostro territorio. Questo è il percorso che come Banca di Credito Cooperativo di Napoli stiamo sviluppando da anni, la sinergia con le accademie, con le università, con gli istituti post-universitari, con le scuole medie superiori, è ciò che ci porta a fare in modo di investire in borse di studio, in attrezzature scolastiche, nella motivazione e nella voglia del trattenimento dei cervelli napoletani. Unico, vero, grande concime che possiamo distribuire sul nostro territorio.